Shock nel mondo del porno, infatti la notizia di oggi sarebbe abbastanza triste e particolare e la notizia in questione infatti sarebbe che il famoso attore porno Nacho Vidal, il cosiddetto Rocco Siffredi spagnolo potrebbe avere l'HIV, il virus della immunodeficienza umana la notizia in questione proviene dai media spagnoli, in particolare il quotidiano chiamato El Nacional avrebbe parlato di ciò ovviamente la notizia in questione getterebbe in paralisi l'intera industria europea del porno adesso tutti gli attori, anche quelli che non hanno mai lavorato direttamente con lui dovranno andarsi a sottopore a analisi del sangue per vedere se è presente oppure no il virus HIV in lui le produzioni delle pellicole sarebbero state messe già in pausa per un mese circa di tempo dunque un po' di tristezza, questo sarebbe quanto ho utilizzato in modo condizionale iscrivetevi, se vi va, commentate un saluto al prossimo video dal narratore italiano grazie a tutti grazie a tutti